A Rio Marsiglia non c'è più spazio, la vita residua della discarica è di 4 o 5 mesi. L'Assemblea dei Soci ha approvato la richiesta di ampliamento del sito. Il progetto prevede 300.000 metri cubi in più, pari al conferimento di circa 15.000 tonnellate annue per i prossimi 12 anni. Mercoledì 21 gennaio la conferenza dei servizi, formata da ARPAL Regione Città Metropolitana, dovrà valutare il piano d'opera. Il presidente del consorzio Rio Marsiglia, Massimiliano Bisso, ha detto di avere fiducia nel possibile accoglimento del progetto. C'è poi una seconda novità. La discarica ad oggi accoglie i rifiuti dei 18 comuni consorziati. Altri 5 centri, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia, Camogli e Pieve Ligure, erano stati aggiunti temporaneamente. Ora, negli ultimi mesi, la discarica ha ricevuto 4.000 tonnellate di rifiuti dovuti all'alluvione. L'imprevisto ha sconvolto i calcoli iniziali, facendo diminuire lo spazio e i tempi di vita di Rio Marsiglia. Per questo, ieri sera, l'Assemblea dei Soci ha deciso all'unanimità che dal 1 febbraio 2015 l'indifferenziata dei comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia e Camogli non dovrà più essere portata a Rio Marsiglia. È stata fatta un'eccezione per Pieve Ligure, poiché conferisce poco e gestisce il servizio rifiuti in modo consorziato. I tre comuni del Tiguglio, interessati dalla decisione, si aspettavano la sospensione, ma la lettera ufficiale è arrivata soltanto in queste ore. Il sindaco di Casarza Ligure, Claudio Muzio, questa mattina ha incontrato i responsabili di Dox Lanterna per trovare una soluzione alternativa a Rio Marsiglia che sia sostenibile, come costi, tempi e modalità. Un incontro con Dox Lanterna, l'attuale gestore del servizio rifiuti in tutta la Val Petronio, è previsto a breve anche con i primi cittadini di Castiglione, Chiavarese e Moneglia. Il consorzio Rio Marsiglia, in ogni caso, non è contrario a riprendere i quattro comuni esclusi alla fine dei lavori di ampliamento, dunque le soluzioni alternative dovrebbero essere temporanee e non definitive.